Dal 4 al 6 aprile prossimo in città si accenderanno i riflettori sul 28esimo Festival Città di Caltanissetta. Da oggi infatti è in uscita il bando per partecipare all'evento Canoro, grande ritorno di mogol al timone della giuria. Per aderire occorre scaricare il bando dal sito ufficiale della manifestazione www.festivalcittadicaltanissetta.it o dalla pagina Facebook e presentare un brano inedito in lingua italiana o dialettale della durata massima di 4 minuti ed inviarlo via mail a segreteria-festivalcittadicaltanissetta.it I termini scadono il 15 marzo 2019 e saranno 16 i selezionati per le pre-finali del 4 e 5 aprile. La 28esima edizione presenterà delle novità perché chi parteciperà oltre a raggiungere la pre-finale RAI di Castrocaro per il primo classificato l'organizzazione mette in palio uno stagio gratuito di 15 giorni presso il CET, centro tuscolano europeo diretto da Mogol, per il secondo classificato e la realizzazione di un demo video per il terzo.